La donna è stata bloccata per secoli. Quando ha accesso alla cultura è come un'affamata e il cibo è molto più utile a chi è affamato rispetto a chi è già saturo. Questo è il pensiero di Rita Levi Montalcini. Oggi si festeggia la giornata mondiale della donna rurale. La giornata nasce con lo scopo di rimarcare il ruolo delle donne nella produzione alimentare e le condizioni di difficoltà in cui spesso sono costrette ad agire. È un'occasione concreta di veder riconosciuto l'operato significativo ricoperto da esse, capaci di promuovere lo sviluppo agricolo e rurale e di migliorare le condizioni per la sicurezza alimentare, contribuendo alla crescita economica nelle zone più vulnerabili e remote della terra. Matilde Jungano, presidente Donne in Campo, in merito afferma che tuttavia, nonostante il ruolo abitale che svolgono le donne, esse sono raramente apprezzate o ricompensate in modo adeguato. E quindi nostro compito, rifiutando la retorica celebrativa e le immagini stereotipate delle donne rurali lucane, promuovere un mondo nel quale assicurare loro educazione, accesso alla politica e potere di risoluzione nelle controversie. Una donna che agisca in un mercato del lavoro che consenta un'equa remunerazione dei suoi investimenti in macchinari, prodotti e manodopera. Una donna che benefici della terra e delle nuove tecnologie che aumentano le produzioni. Anche nel metà puntino, le donne che si occupano di agricoltura saranno festeggiate e a parlarne è Carmela Suriano, impegnata da anni nella produzione della famosa fragola candonga. In occasione della giornata mondiale della donna rurale, afferma negli ultimi anni stiamo assistendo all'incremento del peso delle donne in qualità di imprenditrici, tecnici e braccianti agricole. Riguardo queste ultime, i dati di cui disponiamo ci permettono di tracciare un quadro molto preciso della manodopera. In Basilicata l'agricoltura è vissuta come un'opportunità, sia per chi ha voglia di iniziare un'impresa, sia per chi è in cerca di occupazione. Ricordiamo che in Basilicata la fragolicoltura, nello specifico le piantagioni di fragola a candonga, occupa il 90% della coltivazione. Inoltre, questa attività vede nelle donne l'80% delle risorse umane impiegate a tutti i livelli.